Ciao a tutti! In questo esercizio continuiamo a lavorare nello spazio 3D e nello stesso tempo useremo anche le maschere di livello e i metodi di fusione. Bene, innanzitutto vediamo subito quello che dobbiamo realizzare. Come vedete lavoreremo principalmente con delle fotografie. Si tratta di paesaggi con alberi ritagliati dentro delle foto di volti, con l'aggiunta anche di effetti video come fuoco, particelle, inchiostro, eccetera. E tutti questi livelli sono distribuiti a varie distanze nello spazio e verranno inquadrati da una camera in movimento con un carrello in avanti. Benissimo, incominciamo subito. Se volete seguire anche voi l'esercizio naturalmente trovate il link per scaricarvi tutto quanto il materiale. Il materiale che vedete qua è composto da fotografie e video che vanno importati come semplice footage. Benissimo, dobbiamo creare quattro scene, quindi incominciamo dalla prima. Andiamo in Composition, New Composition, nominiamo la composizione Scena 1, il preset che usiamo è il solito HDTV 108025 e la durata la impostiamo a 5 secondi. Benissimo. Il primo elemento che aggiungiamo è la texture che sta sullo sfondo, quindi prendo texture sfondo e la aggiungo nella timeline. Immediatamente accendo il pulsante che attiva il 3D e prima di spostare questo elemento un po' più lontano nello spazio aggiungiamo anche la camera che lo inquadra. Quindi andiamo in Layer, New Camera. In questo caso usiamo una camera semplice a un nodo, quindi qui scegliamo One Node Camera e come obiettivo quello standard 50 mm. Bene, disattiviamo adesso Enable Depth of Field e lo accenderemo più tardi quando faremo la messa a fuoco e diamo l'ok. Adesso attiviamo i due monitor per disporre più comodamente gli oggetti nello spazio, quindi vado in questo menu e attivo due viste. Lascio nel monitor di destra Active Camera e nel monitor di sinistra il punto di vista top. Bene, adesso seleziono la texture che sta sullo sfondo e con la sua posizione Z la sposto un poco più lontano, più o meno a 500 pixel di distanza e come vedete ho bisogno anche di ingrandirla perché non ci sta tutta quanta nell'inquadratura, quindi attivo la scala e la ingrandisco un po'. Benissimo, adesso aggiungiamo la fotografia che sta dentro il volto, in questo caso è Rami Scena 1, quindi lo prendo e lo aggiungo qui nella timeline. Subito accendiamo il pulsante del 3D, al momento la lasciamo lì e aggiungiamo anche il volto che poi ritaglierà questa fotografia, quindi prendo Volto Scena 1, lo aggiungo qui e anche nel suo caso accendo il pulsante del 3D. Rimpiccioliamo un po' questa fotografia, più o meno di questa quantità qui e la sposterei anche leggermente più a destra e anche un filo più in alto tipo così. E adesso per far sì che la fotografia Rami Scena 1 venga tagliata dalla fotografia del volto, posso usare la maschera di livello di tipo Luma, in modo che la fotografia dei rami venga vista soltanto in corrispondenza delle parti bianche del volto, mentre nella zona di nero la fotografia verrà tagliata. Quindi mi concentro su Rami Scena 1 e nella colonna Track Matte scelgo l'opzione Luma Matte. Attiviamola e come vedete appunto la foto dei rami si vede soltanto in corrispondenza dei pixel bianchi della fotografia del volto. Benissimo. Adesso la fotografia del volto la lasciamo lì dove si trova, mentre la foto dei rami la avviciniamo un poco di più alla camera. Quindi attivo la posizione e con la posizione Z l'avvicino un po' e anche in questo caso direi circa 500 pixel più vicino alla camera. In questo caso direi di spostarla anche un poco più in basso e anche leggermente un poco più a destra, più o meno così. Ora sempre all'interno del volto voglio vedere le fiamme, quindi prendo il video delle fiamme, lo aggiungo nella timeline, accendo il pulsante del 3D e lo avvicino ancora di più rispetto alla camera, quindi con la posizione Z più o meno a questa distanza qua. Come vedete in questo caso dobbiamo far sparire lo sfondo nero di questo video e noi sappiamo dalla lezione precedente che possiamo usare i metodi di fusione. I metodi di fusione li troviamo in questo menu qua e in questo caso particolare dobbiamo usare un metodo di fusione di questa famiglia qua, della famiglia di ADD, perché questi metodi di fusione fanno sì che i pixel neri vengono annullati e in questo caso particolare usiamo proprio il metodo ADD e immediatamente rimangono solo le parti chiare delle immagini, cioè appunto le fiamme. Bene, rimpiccioliamole subito un poco, più o meno questa dimensione qua, e la spostiamo anche un poco più a destra all'incirca qui. Come dicevo prima le fiamme però le voglio vedere soltanto dentro il volto, quindi posso usare un'altra copia della fotografia del volto come maschera di livello per tagliare le fiamme. Quindi seleziono volto scena 1, la duplico, CTRL D, il duplicato lo sposto sopra le fiamme e alle fiamme attivo la maschera di livello Luma Matte. Ecco fatto, a questo punto le fiamme si vedono soltanto dentro il volto. Ora con l'effetto di Color Correction Tritone attenuiamo un poco il colore e l'intensità delle fiamme. Quindi seleziono le fiamme, vado nel menu Effetti, Color Correction, Tritone. Le fiamme vengono immediatamente virate verso un beige molto chiaro, ma noi lo modifichiamo ancora un po', quindi clicchiamo sulla palette colori di Midtones e impostiamo un colore leggermente più scuro, in modo che rimangano visibili soltanto le parti più chiare delle fiamme. Più o meno così. Proviamo a dare un'occhiata e come vedete soltanto le parti più luminose del fuoco sono visibili. Benissimo. Adesso facciamo in modo che i rami e il volto vengano distorti dal movimento delle fiamme e per far questo usiamo un effetto di distorsione che sfrutta la luminosità delle fiamme per distorcere la fotografia. Quindi incominciamo dai rami, seleziono i rami, vado nel menu Effetti, nella sezione Distort aggiungo l'effetto Displacement Map. Come vedete subito i rami vengono distorti, ma non seguono però la forma delle fiamme e questo succede perché dobbiamo collegare l'effetto al livello fiamme e per fare questo collegamento dobbiamo andare in Displacement Map Layer e da questo menu dobbiamo attivare il livello fiamme. Benissimo. Appena fatto questo collegamento adesso vedete che i rami si distorcono in corrispondenza delle zone più luminose della fiamma. Bene, e ora la stessa distorsione la voglio applicare anche alla fotografia del volto. Quindi per fare più rapidamente posso copiare questo effetto dai rami e incollarlo al volto. Quindi seleziono l'effetto qui nella finestra del controllo effetti, lo copio, CTRL-C, seleziono il volto nella timeline e lo incollo, CTRL-V. E come vedete adesso anche il volto viene distorto in corrispondenza delle parti più luminose della fiamma. Benissimo. Adesso qui sulla sinistra aggiungiamo il titolo e la macchia d'inchiostro. Quindi prendo lo strumento testo, clicco in questa zona e scrivo Motion Graphics. Come vedete sto usando un font che si chiama Blur e naturalmente se anche voi volete usare lo stesso font vi lascio il link nella pagina del video. In questo caso specifico voglio che anche le lettere minuscole appaiano in maiuscolo più piccolo e per far questo basta che attiviamo questo pulsante nella parte bassa della palette character, il pulsante del maiuscoletto. Quindi ci clicco sopra e come vedete le lettere minuscole appaiono come delle lettere maiuscole però più piccole. Bene. Adesso prendo il titolo e lo sposto come primo livello nella timeline. Poi come a tutti gli altri accendo il pulsante del 3D e in questo caso lo voglio ancora più vicino la camera rispetto agli altri livelli. Quindi attivo la position e lo avvicino più o meno di 1000 pixel. In questo caso come vedete si trova qui fuori dall'inquadratura quindi lo devo spostare più a destra e naturalmente anche un po' più in alto all'incirca qua. Magari ancora un poco più a destra. direi anche di ingrandire soltanto la parola graphics quindi la seleziono col parametro per gestire il testo la ingrandisco un poco più o meno così e riduco anche un po' lo spazio interlinea all'incirca così. Bene. A questo punto forse è meglio anche che riduco la dimensione generale un po' così. adesso dietro il titolo voglio vedere il video della macchia d'inchiostro che si allarga. Quindi torno nella finestra progetto, prendo il video inchiostro, lo metto nella timeline, accendo subito il pulsante del 3D e lo sposto più avanti appena dietro il titolo. Quindi con la posizione Z lo avvicino all'incirca qui lo sposto un poco più a sinistra e leggermente più in basso. Vediamo quanto si allarga. Un po' troppo quindi direi di diminuire anche la scala all'incirca della metà più o meno. Poi lo spostiamo ancora leggermente più in basso e a sinistra in modo che il titolo si trovi al centro della macchia. Bene. Anche in questo caso come abbiamo fatto prima per le fiamme abbiamo bisogno di eliminare i pixel neri. Quindi vado nel menu dei metodi di fusione e anche in questo caso attivo il metodo add. Benissimo. Adesso vorrei anche usare la macchia d'inchiostro per far apparire il titolo in modo che il titolo si veda soltanto nella parte bianca del video dell'inchiostro. Quindi anche in questo caso posso attivare la maschera di livello di tipo luma. Quindi innanzitutto duplico la macchia d'inchiostro ctrl d e la copia la vado a mettere sopra il livello di testo e al testo attivo la maschera di livello di tipo luma. E quindi come dicevo prima il titolo all'inizio non si vede e poi si vede dentro la zona bianca dell'inchiostro. Bene. Adesso modifichiamo un poco l'inchiostro che sta dietro la scritta. Innanzitutto abbasso un poco l'opacità. Quindi attivo l'opacità e l'abbasso abbastanza direi un valore intorno al 30%. E vorrei che fosse anche leggermente colorato di azzurro. Quindi anche in questo caso usiamo l'effetto tritone. Quindi lo seleziono, vado nel menu effetti, sezione color correction, tritone. Apriamo subito la palette dei mezzi toni. Cerchiamo un azzurro, magari un poco meno colorato, all'incirca così. Benissimo. E vorrei anche smorzare di più la parte bianca dell'immagine. E per farlo posso agire sugli highlights dell'effetto tritone. Quindi apro la palette. E se scurisco questo parametro e scendo verso il nero, vedete che la parte più bianca dell'inchiostro diventa sempre più trasparente. E io scenderei all'incirca fino qua. In modo appunto che si veda quasi soltanto il contorno sfumato della macchia. Benissimo. Adesso per concludere la scena aggiungiamo in primissimo piano, qui davanti a tutti i livelli, l'effetto video particelle. Quindi torniamo di nuovo in progetto. Prendiamo il video delle particelle. Lo mettiamo per primo nella timeline. Accendiamo il pulsante del 3D. subito lo spostiamo, io direi più o meno qui davanti al titolo. In questo caso direi anche di ridurlo in grandezza. All'incirca così. E come per gli altri effetti dobbiamo eliminare i pixel neri. Quindi andiamo nel menu dei metodi di fusione e scegliamo di nuovo add. Benissimo. In questo caso direi che il colore delle particelle va bene così. Quindi non lo modifichiamo. Ora facciamo il movimento di camera in avvicinamento. Voglio che al tempo zero la camera si trovi lì dove è e a 5 secondi invece venga avanti verso sinistra puntando verso il titolo. Quindi prendiamo il cursore, andiamo al tempo zero, selezioniamo la camera, attiviamo la sua posizione e gli accendiamo l'orologio per raggiungere il keyframe di partenza. Poi prendiamo il cursore, avanziamo fino in fondo la timeline e avviciniamo la camera con la posizione z. Io direi di avvicinarla più o meno di questa quantità qui. E come dicevo prima voglio anche puntare più a sinistra verso i titoli. Quindi con la position x la sposto in questa zona qua. Benissimo. Adesso facciamo la preview. Prima però abbassiamo un po' con la risoluzione. Benissimo. Direi che il movimento in avanti va bene. E adesso ultima cosa. Dobbiamo gestire la messa a fuoco della camera. Noi vogliamo che sia sempre a fuoco il volto e che siano leggermente sfocati gli oggetti in primo piano, il titolo e gli effetti. Quindi di nuovo torniamo al tempo zero. Selezioniamo la camera. Clicchiamo doppio A per mettere in evidenza le opzioni della camera. E attiviamo la messa a fuoco accendendo il parametro depth of fill, profondità di campo. Quindi lo mettiamo su ON. E adesso portiamo la focus distance all'altezza del volto. Quindi più o meno qui dove si trova appunto il volto. Adesso per far sì che gli elementi in primo piano sfuochino un po' dobbiamo aumentare l'apertura. E io direi in questo caso di arrivare a un valore tra i 50 e i 60. E quindi le particelle sfocano un po' e anche il titolo in primissimo piano rimane leggermente sfocato ma comunque sempre leggibile. Benissimo. Facciamo un'ultima preview e poi passiamo a creare le altre scene. Perfetto. Adesso per creare la scena numero 2 possiamo duplicare questa scena e sostituire le fotografie. Quindi qui nella finestra di progetto seleziono la scena 1 e la duplico CTRL D. Subito ottengo una scena numero 2 quindi il nome va già bene così com'è. Ci faccio doppio clic sopra in modo che si apra qui nella timeline e direi di incominciare a sostituire il volto. Quindi seleziono le due copie del volto. Questa e l'altra che taglia le fiamme. prendo il volto della scena 2. Tengo premuto il tasto alt e lo vado a sostituire al posto di volto scena 1. Benissimo. In questo caso lo vorrei leggermente più grande quindi attivo la scala. Lo ingrandisco un po' più o meno di questa quantità qui e lo spostiamo sul lato sinistro della scena. Quindi con la posizione lo sposto all'incirca qui e anche leggermente più in alto. Benissimo. Adesso sostituiamo la fotografia dei rami. Quindi la seleziono. Prendo albero scena 2. Tengo premuto il tasto alt e lo metto al posto dei rami. Benissimo. Lo rimpicciolisco leggermente all'incirca così e lo sposto un poco più in alto e anche un po' più a sinistra. Più o meno qua. Anche le fiamme come vedete dobbiamo spostarle più a sinistra. quindi le seleziono. Ecco la position. Le spostiamo qua. Vediamo se sono nella zona giusta. Direi di sì. E il titolo e la macchia d'inchiostro invece li vogliamo sulla destra. Quindi seleziono l'inchiostro, il titolo e la copia dell'inchiostro e li vado a mettere in questa zona qua. Ora modifichiamo la scritta. Al posto di Motion Graphics scriviamo After Effects Tutorial. Quindi doppio clic su Motion Graphics. Al posto di Motion After Effects. E al posto di Graphics Tutorials. Anche in questo caso modifichiamo la dimensione delle due linee. Quindi After Effects lo riduco un po'. Tutorials invece lo ingrandisco un po' e lo abbasso anche un po'. Più o meno così. E adesso ultima cosa. Dobbiamo modificare la posizione finale della camera. In modo che anziché andare verso sinistra vada verso destra. Quindi prendiamo il cursore. Lo portiamo sull'ultimo frame. Riapriamo la posizione della camera. E spostiamo la camera a destra. Bene. E adesso possiamo fare la preview. Perfetto. Ora la scena 3. E nella scena 3 il volto è di nuovo a destra e la scritta a sinistra. Quindi direi di duplicare ancora la scena 1. Quindi la seleziono. Control D. Doppio clic su scena 3. E incominciamo dal volto. Quindi seleziono le due copie del volto. E le sostituisco con volto scena 3. In questo caso direi che il volto vada ingrandito un po' di più. Più o meno così. E lo sposterei anche un po' più verso il centro. Più o meno qui. E anche un poco più in alto. All'incirca qui. Bene. Sostituiamo adesso i rami. Quindi li seleziono. Prendo foresta scena 3. E la sostituisco a rami. In questo caso dobbiamo ridurre un po' la dimensione della foto. Quindi più o meno questa grandezza qui. La spostiamo un poco più in alto. E anche un poco più a destra. In modo che l'alce si veda bene qui al centro del volto. Bene. E adesso il titolo. Quindi doppio clic su Motion Graphics. In questo caso devo scrivere Every Week on YouTube. Quindi incomincio da Motion. Every Week on. E al posto di Graphics YouTube. E anche in questo caso la prima linea la riduco un po'. E invece ingrandisco un po' di più la seconda. E l'abbasso anche un po'. Benissimo. Facciamo una preview. Benissimo. Proseguiamo. C'è rimasta l'ultima scena. In questo caso duplichiamo l'ultima appena realizzata. Quindi seleziono scena 3. Ctrl D. Doppio clic su scena 4. Come al solito incominciamo dal volto. Quindi seleziono le due coppie di volto 3. E al suo posto mettiamo il volto della scena 4. In questo caso la scala va ridotta un po'. Più o meno così. Spostiamo il volto più o meno al centro. E direi anche di alzarlo un poco di più. Più o meno così. Bene. Adesso sostituiamo la fotografia di sfondo. Quindi seleziono foresta. E al suo posto metto alberi scena 4. Spostiamo gli alberi leggermente più a sinistra. Un po' più in basso. E direi anche di ingrandirli leggermente. In modo che lo spazio qui in mezzo sia un po' più grande. Bene. Adesso prima di cambiare la posizione del titolo. Direi prima di correggere la posizione finale della camera. Perché vogliamo che avanzi dritta senza deviare a sinistra. Quindi prendo il cursore. Vado in fondo. Vado in fondo. Attivo di nuovo la posizione della camera. E la riporto più verso il centro. E quindi più o meno qua. E adesso spostiamo il titolo in questa zona qua. Innanzitutto in questa ultima fotografia la macchia d'inchiostro non ci serve. Quindi selezioniamo le due copie di inchiostro. Questa e quest'altra. E le cancelliamo. Benissimo. Al titolo disattiviamo la funzione luma matte. Perché a questo punto non ci serve più. Quindi dal menu delle maschere disattiviamo la luma matte. E adesso spostiamo il titolo al centro del volto. Quindi più a destra. E più in alto. Benissimo. In questo caso per vederlo bene ovviamente abbiamo bisogno che sia più scuro. Quindi nella palette character. Cambiamo il colore. Anziché bianco. Lo modifichiamo in nero o grigio molto scuro. Più o meno così. E direi in questo caso anche di usare uno stile un po' più spesso. Quindi anziché light che è troppo sottile possiamo usare quello leggermente più largo che è medium. Bene. Adesso doppio clic sul titolo. E al posto di every week scrivo mg. E lo ingrandisco subito. Più o meno di questa quantità qui. In modo che occupi tutto lo spazio in mezzo agli occhi. E al posto di youtube invece scrivo tutorials. E ovviamente in questo caso diminuisco la grandezza. E lo sposto anche un po' più in alto. Bene. A questo punto devo di nuovo riaggiornare la posizione. All'incirca qua. E adesso siccome il titolo si trova nella stessa zona del volto e dei rami. Voglio che venga anche lui distorto dall'intensità delle fiamme. Quindi posso anche a lui copiare l'effetto di distorsione che avevo messo sui rami. Quindi seleziono alberi. Attivo la finestra effect control. Seleziono l'effetto displacement map. Lo copio. Control C. Seleziono il titolo. E lo incollo. Control V. E a questo punto anche il titolo viene distorto dalle fiamme. Bene. Facciamo una preview e poi dopo assembliamo tutte le scene. Perfetto. Adesso la composizione finale. Quindi andiamo in composition. New composition. La chiamiamo esercizio 15. E la durata. La somma delle durate delle scene. Quindi 20 secondi. Diamolo ok. Torniamo nella finestra progetto. Prendiamo la composizione scena 1. Poi aggiungiamo la composizione scena 2. La allineiamo con la fine della scena 1. E così facciamo anche per la 3. E per la 4. Benissimo. Prima di proseguire torniamo a impostare una sola vista. E come transizione tra le varie scene usiamo un effetto luce. Quindi prendo il video effetto luce. Lo aggiungo qua. E anche in questo caso dobbiamo eliminare i pixel neri di questo video. Quindi subito attiviamo il metodo di fusione giusto. E in questo caso anziché usare il metodo di fusione add che è un po' troppo intenso. Direi di usare quello leggermente più neutro che è screen. Che comunque in ogni caso elimina i pixel neri. Bene. Adesso dobbiamo far sì che il momento di massima intensità di questo effetto coincida con il passaggio della scena 1 alla scena 2. Quindi prendo il cursore, mi metto sul primo frame della scena 2, sposto il video dell'effetto luce e mi fermo quando sono appunto sul frame più luminoso. E io direi che il frame più luminoso è questo qui. Benissimo. Verifichiamo se funziona. Perfetto. Lo stesso effetto lo vogliamo anche a cavallo delle altre scene. Quindi lo seleziono. Control D. Sposto il cursore all'inizio della scena successiva. Metto la transizione nel momento giusto. Qui. Di nuovo duplico. Avanzo alla scena 4. E gli metto sopra la transizione. Benissimo. Abbiamo aggiustato i momenti di transizione. Ma noi usiamo questo effetto anche all'inizio e alla fine della composizione. Quindi di nuovo lo duplico. Mi metto col cursore all'inizio e sposto l'effetto luce all'inizio in modo appunto che il primo frame sia quello più luminoso. Così che il filmato comincia con lo schermo bianco che poi svanisce e mi porta alla scena 1. E lo stesso effetto lo voglio anche alla fine a mo' di dissolvenza finale a bianco. Quindi di nuovo lo duplico. Vado sull'ultimo frame. E sposto l'effetto qui in modo che l'ultimo frame sia il più bianco possibile. Benissimo. Adesso per simulare l'effetto di pellicola cinematografica aggiungiamo gli ultimi due effetti. Un effetto che ha i graffi e le macchie di una pellicola rovinata. E poi l'effetto che simula la granulosità della pellicola. Bene. Incominciamo dall'effetto pellicola rovinata. Lo mettiamo al di sopra di tutti i livelli. E come vedete si tratta di macchie e graffi bianchi su sfondo nero. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è come al solito eliminare il nero col metodo di fusione. E come per l'effetto luce direi anche in questo caso di usare screen. Poi come vedete questo video dura soltanto 5 secondi. E io ho bisogno che si ripeta in continuazione per tutta la durata della composizione. Per cui posso attivare la funzione time remapping e mandarla in loop. Come avevamo anche fatto in uno degli esercizi precedenti. Quindi seleziono pellicola rovinata, vado in layer, time, time remapping. Si attivano questi due keyframe che gestiscono il tempo del video. E prima di mandarla in loop trimiamo la coda del video in modo che arrivi fino in fondo alla composizione. E adesso selezioniamo la proprietà time remap e con la palette looping, con le impostazioni che abbiamo qui di default, clicchiamo sul pulsante applica. Se per caso non avete ancora questa palette trovate comunque il link per scaricarvela qui nella pagina del video. Bene, e adesso l'effetto si ripete in continuazione. E ora aggiungiamo il secondo effetto pellicola che è emulsione pellicola. Quindi l'aggiungo qua sopra. Si tratta di un brevissimo video che come vedete rappresenta l'emulsione della pellicola. In questo caso particolare però dobbiamo eliminare lo sfondo grigio. Quindi nei metodi di fusione dobbiamo scegliere quello della famiglia overlay. E quindi attivo overlay. E adesso se zoomate bene nel monitor vedete che il video appare più granuloso di prima. E anche in questo caso siccome il video dura soltanto un secondo dobbiamo attivare il time remapping e mandarlo in loop. Quindi lo seleziono. Layer, time, time remapping. Allungo la coda del video fino in fondo alla composizione. Seleziono time remapping e attivo il looping. Perfetto. E adesso come ultimo effetto prima di fare la preview finale direi di dare un look uniforme a tutto quanto il video. E per farlo usiamo lo stesso effetto di color correction lumetri che abbiamo usato nell'esercizio precedente. E lo applichiamo a un livello di aggiustamento. Quindi andiamo in layer, new, adjustment layer. E dal menu effetti nella sezione color correction aggiungiamo lumetri color. E come abbiamo fatto nell'esercizio precedente ci limitiamo soltanto nella sezione creative a scegliere dal menu look un look adatto al nostro filmato. E in questo caso io ho scelto questo SL Blue Moon. E come vedete ottengo un look che tende verso una tonalità di azzurro verde. E siccome l'intensità di questo look mi sembra un po' troppo forte smorzo il parametro intensity e lo abbasso più o meno tra i 70 e gli 80. Perfetto. Adesso riporto la risoluzione a full e faccio una preview finale. Ovviamente la preview non è immediata. Ci vuole un po' di tempo per cui fermo un attimo la registrazione e ritorno quando sarà terminata. Perfetto, direi che ci siamo. Quindi l'esercizio di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!